Tenta di rubare in un appartamento in via della Libertà d'Agropoli, ma qualcosa va storto. È successo sabato sera intorno alle 19.30. I proprietari dell'appartamento vengono informati di strani rumori provenienti dalla loro abitazione e si precipitano sul posto. L'uomo, classe 92, originario di Eboli, tenta la fuga gettandosi dal primo piano del palazzo, impattando violentemente al suolo. Per il 29enne è stato necessario il trasporto in ospedale a Vallo della Lucania per un trauma cranico commotivo. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Croce Gialla con un'ambulanza medicalizzata e i carabinieri della locale stazione che hanno scortato l'uomo fino all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.